Ciao, sono Emanuela Masia. Sono una persona autistica e ho una disabilità fisica invisibile. Nel febbraio del 2021 ho aperto un podcast e l'ho chiamato Fuorinorma. Mi è sembrato il modo migliore per definire me stessa, ma anche l'occasione per confrontarmi con altre persone che per una o più delle loro caratteristiche si collocano al di fuori della media statistica. Perché questa è la norma, un dato statistico. Non esistono persone normali. Si può parlare di norma solo in riferimento alla distribuzione statistica di una caratteristica. E una caratteristica normale è solo più comune, più diffusa, non necessariamente migliore, più sana o più giusta. E le mie caratteristiche fuori norma non mi rendono automaticamente sbagliata o peggiore degli altri. E sono tante le persone che hanno caratteristiche fuori della norma. Io, per esempio, io sono nata con una caratteristica genetica considerata rara e chiamata talassemia major. In pratica il mio corpo non produce emoglobina, che è quella sostanza contenuta nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno ai tessuti. Per questo motivo vivo grazie alle trasfusioni di sangue, da quando ho un anno di età. Mi approfitto in questa sede per ringraziare i donatori di sangue. E invito chi può, e ancora non lo è, a diventare donatore. Grazie. La talassemia è una disabilità fisica, ma non solo è invisibile, non è mai stata sufficiente a spiegare la mia differenza dalle altre persone. Gli altri mi vedono così apparentemente simile a loro, che non possono fare a meno che proiettare su di me, come se fosse il loro specchio, la loro immagine. E anche adesso che sono autistica, e lo so, avere una parola più per descriverla ancora non è sufficiente a spiegare questa differenza invisibile. Pensavo che fosse questa la cosa difficile, perché non si vede. Quello che non mi aspettavo è che mi sarei trovata ad affrontare il problema di come far convivere differenze ed esigenze diverse. Perché non so se vi siete accorti, ma sembra che esista una gerarchia delle disabilità. Le condizioni più visibili sembrano anche le più svantaggiose. Insomma, più si vede e più sembra grave. Se invece non si vede, siamo tutti pronti a giudicare la legittimità delle esigenze di una persona che è così apparentemente simile a noi. Ma recentemente mi è successa una cosa che mi ha fatto mettere in discussione il modo in cui siamo abituati ad usare noi stessi come misura di ciò che è normale. E quindi anche per stabilire a chi riservare un trattamento particolare a seconda di quanto si mostra diverso da noi. In pratica è successo che la mia vicina di casa ha deciso di installare dei dissuasori per i piccioni. Ma ciò è addobbato davanzale e terrazzo con un numero cospicuo di strisce di materiale argenteo che, riflettendo la luce, dovrebbero allontanare i piccioni. Se non fosse che fanno anche molto, molto rumore. Un frastuono sventagliante metallico che non si placa mai. Anche perché basta una brezza per farli muovere. E io abito al mare. Non è la prima volta che qualcosa per me è insopportabile e per gli altri no. Ed è più difficile farsi capire quando è qualcosa che anche gli altri sentono, che si accorgono che è fastidioso, ma evidentemente non quanto lo è per me. E per questo motivo mi sono sempre sentita dire che sono viziata. Una bambina e una ragazzina viziata. Anche gli altri lo sentono, eppure non fanno mica tutte queste storie. E così sono cresciuta pensando che gli altri percepissero la realtà come la percepisco io. Solo che facessero finta. Facessero finta di non vedere, di non sentire, o a volte anche di capire. Io pensavo se ci riescono gli altri, ci riesco anch'io. E così ho iniziato a ignorare ciò che sentivo pensando che anche gli altri facessero lo stesso. Proprio perché ero così simile agli altri. Loro non hanno il mio specchio. Io in quello specchio mi riflettevo e pensavo di vedere me stessa. Mi sbagliavo. Quello specchio rifletteva molte immagini di cui nessuna era davvero mia. Sono dovuti passare molti anni prima che scoprissi di essere autistica. ho iniziato a sospettarlo nella seconda fase della pandemia. Avevo passato un terribile primo lockdown in una casa condivisa con altri lavoratori studenti al primo piano con le sbarre alle finestre. Quindi alla riapertura estiva io ho cercato un posto lontano dal centro, ma tutto per me. E quando mi sono trasferita in questa casa mi sono resa conto che non ero più in grado di fare le cose che avevo sempre fatto. Dal fare la spesa a cucinare, dal fare le pulizie, a scegliermi che cosa mettermi addosso a tutto mi sembrava un'impresa impossibile, ma soprattutto la mia sensibilità sensoriale aveva raggiunto livelli a cui non ero abituata. E così ho fatto quello che farebbe chiunque. Ho cercato su Google. Ho cercato sensibilità sensoriale e ho trovato persone autistiche che raccontavano la loro esperienza dall'interno. Quella è stata la prima volta che mi sono guardata in uno specchio. L'ho visto me stessa. Chiaramente non mi sono fermata lì, ho preso appunti e mi sono presentata da un professionista a cui sottoporre la mia ipotesi. Ho affrontato il mio primo percorso diagnostico e ho ottenuto il riconoscimento della condizione autistica. Chiaramente nessuno era disposto a credere che io fossi autistica. E io ero ancora abituata a usare gli altri per misurare la validità di me stessa. Al massimo sarai Asperger ad altissimo funzionamento, mi hanno detto. Ma soprattutto a me sembri normale. E quindi ho affrontato un secondo percorso di valutazione in un secondo centro specializzato con un altro metodo diagnostico. Stesso risultato. Spettro autistico livello 1. Allora ho fatto un po' di ricerche. Non su Google questa volta. E ho scoperto un sacco di cose interessanti. Prima di tutto ho scoperto che la sindrome di Asperger non esiste. Non è più nei manuali diagnostici dal 2013. Esistita per un breve periodo nella storia per distinguere quale persone autistiche che non avessero disabilità intellettiva e disturbo del linguaggio. Ci si è resi presto conto che la realtà è molto più complessa e più variegata di così. Che anche l'intelligenza, il cui è un numero che cambia con l'età a seconda delle circostanze e anche i metodi per misurarlo cambiano. E quindi non esiste più. Le etichette di funzionamento invece non sono mai esistite. Non c'è in nessun manuale alto funzionamento. Era un modo che avevano gli educatori per capirsi fra di loro sul fatto che la persona autistica di cui si occupavano sapeva fare delle cose. Poi cosa, per quanto tempo, a quali condizioni, a quale prezzo. Questo non c'era un manuale per stabilirlo. Non si sa. Al momento nei manuali diagnostici c'è solo lo spettro autistico. E tre livelli che non sono il livello di autismo, ma il grado di supporto di cui abbiamo bisogno. E infatti cambia. Può cambiare nel tempo a seconda di come cambiano le nostre capacità di fare fronte alle sfide della vita. Che cambiano a seconda delle circostanze del contesto. Lo spettro non è lineare da meno autistico a più autistico. Assomiglia di più alla ruota dei colori. Ogni persona autistica ha una combinazione di sfumature del tutto unica. Ho scoperto davvero tante cose, ma soprattutto ho scoperto che gli altri non percepiscono la realtà come la percepisco io. Che anche se la mia vicina di casa le sente le strisce di piccioni, a lei non fanno male quanto fanno male a me. Ma anche che non a tutte le persone autistiche farebbero male allo stesso modo. Perché siamo tutti diversi. Sai com'è? Siamo esseri umani. Insomma, per tornare alla guerra dei piccioni, ho affrontato l'argomento con i suoi genitori. Perché non vengono più tanto spesso, ma con loro ho più confidenza. Sono loro infatti che ho conosciuto quando mi sono trasferita in questa casa. E a loro avevo raccontato di questa mia scoperta di essere autistica. Sono venuti un giorno a vedere come avevo finito di arredare perché ancora non l'avevano vista. E così la mia vicina di casa ha scoperto in modo indiretto che mi mancavano da montare i mobili del bagno. Non so se potete immaginare la mia sorpresa quando si è offerta di darmi una mano. Ho pensato, cioè una cosa semplice come togliere le strisce. Io gliela chiedo e lei non la fa perché i piccioni sono brutti cattivi e portano le malattie. Ma si offre di fare una cosa molto più complicata che nessuno gli ha chiesto di fare. Ma l'abbiamo appena detto. Chi sono io per stabilire le priorità delle altre persone? Ho accettato. E un sabato pomeriggio, mentre montavamo i mobili del bagno, lei mi raccontava la sua vita, le sue difficoltà, le sue scelte. Io avevo i tappi per le strisce. E nonostante questo ogni volta che lei usava il trapano io correvo nell'altra stanza con le mani nelle orecchie. E così questa differenza invisibile di cui forse aveva sentito il nome, autismo, ma di cui probabilmente non aveva immaginato le reali implicazioni, improvvisamente si è manifestata e diventata visibile. E così quando abbiamo preso confidenza io ho approfittato per farle una domanda. Com'è che quando ci sono delle esigenze contrastanti le persone vogliono per forza avere ragione? Pensano forse di non avere difficoltà, di essere perfette? E lei mi ha risposto che no, che le persone pensano che i propri mali siano i peggiori e che quindi le proprie esigenze siano le più legittime. Di nuovo la gerarchia. Ma se la smettessimo di voler avere ragione? Se la smettessimo di utilizzare noi stessi per misurare la validità degli altri e gli altri per misurare la validità di noi stessi? Se la smettessimo di lasciarci trasportare in questa modalità da social media mi piace, non mi piace, pronti a cliccare, sono d'accordo, non sono d'accordo, per me non è vero, sta mentendo. La realtà è più complessa di così. Non devi rispettare le mie esigenze perché io, poverina io ho una diagnosi, poverina io sono fuori norma. No, no, dobbiamo rispettare le nostre rispettive esigenze perché entrambi abbiamo bisogno che le nostre esigenze vengano rispettate perché entrambi siamo esseri umani con pari dignità e pari diritti. Io ho fatto un sacco di ricerche per sapere come potevamo fare a dissuadere i piccioni perché ho capito che per la mia vicina di casa era importante. E lei? Dopo quel sabato pomeriggio le ha tolte le malefiche strisce. La mia domanda è a voi. Voi cosa farete quando vi troverete in confronto con qualcuno che ha delle esigenze diverse dalle vostre? Cercherete chi ha ragione? Quali sono le esigenze più legittime? Oppure vi disporrete all'ascolto? Cercherete un modo di rispettare le esigenze di entrambi? Quando verrà il vostro turno come affronterete la vostra guerra dei piccioni? Grazie di essere venuti al mio TED Talk.